A completare la rosa perché, come ho detto l'altro anno, la precedente conferenza stavamo cercando giocatori ben definiti per quello che ci serviva. Quindi li abbiamo scelti, siamo molto contenti che siamo arrivati. Chiaramente per la partita di Perugia ho considerato il fatto che comunque non conoscesse ancora bene la squadra, le campagne, anche solo le mie richieste e quindi ho deciso di partire con tra l'ingolette della vecchia guardia, ma sapevo di poter contare, infatti appena ho avuto la possibilità, li ho utilizzati perché rispetto alle caratteristiche personali potevano aiutare la squadra a portare a casa i risultati. Gonnelli probabilmente è quello più pronto perché prima di arrivare qui ha giocato la polenta in ampionato, Steffè magari è un pochino più indietro visto che era fuori dai 22, si è sempre allenato, quindi sotto l'aspetto della condizione sta bene, chiaramente del ritmo gara come Longo può essere un pochino più indietro però credo che nel giro di poco possano arrivare al giro anche loro.